Voglio parlarvi di una scelta che ho fatto circa un anno fa. Ciao a tutti, io sono Luca Uletta e sono qui per condividere con voi tutte le mie esperienze sul mondo della post-produzione degli effetti visivi ed aiutare chi si ritrova un attimo impantanato nelle scelte o non sa come affrontare determinate cose. Io per tanti anni ho utilizzato i prodotti Adobe, ho utilizzato Premiere Pro, ho utilizzato Adobe After Effects tantissimo, tant'è che ci abbiamo fondato praticamente uno studio su Adobe After Effects ed eravamo in stabili quattro persone ad utilizzarlo più tutti professionisti esterni e After Effects ci ha dato tantissimo, ma è arrivato un momento in cui ci siamo resi conto che After Effects aveva dei limiti che ci impedivano di crescere ed è lì che è arrivata probabilmente la scelta più difficile. La scelta più difficile è stata quella di lasciarlo andare, cominciare ad abbandonarlo un pochino a favore di un altro software. In realtà nel mondo del compositing non ce ne sono tantissimi e le scelte vere si fermano a tre. Ci sono The Foundry Nuke che è standard di settore a livello mondiale, Black Magic Fusion e Adobe After Effects. Adobe After Effects nasce ovviamente più come software per la motion design e l'animazione 2D, ovviamente si presta benissimo al mondo degli effetti visivi e infatti è utilizzatissimo, ma ha dei limiti, limiti che tante volte noi siamo riusciti a superare proprio con dei trucchetti di escamotaggio. Ma ce ne sono altri che purtroppo oggi Adobe dovrebbe un attimo lavorare meglio per andare a limarli. Uno di questi, che purtroppo devo citare per forza, è lavorare a 32 bit con After Effects è davvero un enorme problema. Le due scelte che rimanivano erano Black Magic Fusion e The Foundry Nuke. E noi abbiamo deciso di non andare incontro allo standard e di scegliere Fusion come main software per il compositing all'interno del nostro studio. Per chi dico main, per chi After Effects non l'abbiamo abbandonato. Ovviamente lo utilizziamo costantemente per la motion design e in certi progetti anche per fare dei VFX molto più semplici. Per tutte le cose un pochino più complicate è perché poi tra le altre cose abbiamo spostato parte del mondo della post-produzione generale da Premiere Pro a DaVinci e ovviamente è più facile l'interscambio dei file se siamo all'interno dello stesso software. Un po' come in Adobe si può fare il Dynamic Link tra i due software, dentro DaVinci non devi neanche aprire un altro software perché hai la tab Fusion che ti permette di andare a spippolare e a fare i tuoi effetti stessi lì dentro. E questa è una cosa molto ma molto potente e comoda perché ti permette di rimanere lì e fare le tue cose. Insomma abbiamo fatto questa scelta, in realtà sono stato io a prendere la decisione dello studio e convincere tutti quanti gli altri a studiare Fusion e è stata una mossa che ci ha portato estreme soddisfazioni. Ed ora ho la voglia e la volontà di raccontarla a tutti quanti voi e portarvi con me all'interno del fantastico mondo che ho scoperto grazie a delle persone magnifiche che ci hanno spiegato, mi hanno spiegato una persona nello specifico che forse più avanti vi porterò a conoscere, che ci ha spiegato esattamente quello che andava fatto e ci ha seguito in tutti i momenti più bui e neri. Però ne siamo usciti fuori ed oggi Fusion come After Effects d'altronde sono una costante scoperta nel panorama. Infatti non ti annoi mai, puoi conoscere un software quanto vuoi ma alla fine se stai lì a lavorarci, a spippolare, porca miseria, uscirà sempre qualche novità, qualche cosa che tu non conoscevi. Special modo quando si comincia ad applicare non più soltanto la maniera artistica di fare le cose, quando inizi a applicare la matematica agli effetti visivi, esplode proprio la testa. Cosa voglio dire, cosa volevo raccontarvi con questo video? Beh che molto spesso quando, se siete nati con After Effects, lavorare a livelli, perché After Effects è un software a livelli, porta con sé tanti vantaggi, special modo visivi e nella gestione dello spazio-tempo, cosa che abbiamo avuto lì in estreme difficoltà ed anzi io per questo motivo non volevo mai passare ad un software a nodi, come Fusion ovviamente, proprio perché la gestione del tempo e dei keyframe e dell'animazione in sé è molto ma molto più meccanica, cioè ha gli stessi strumenti, ovviamente sono posizionati in modo diverso, ma il cuore pulsante non è l'animazione, ma è la matematica all'interno di Fusion. Ed è questa la grande differenza tra due software, ed è per questo motivo che entrambi i software fanno ancora parte del nostro arsenale, proprio perché a me non interessa utilizzare un solo software, ma interessa optare per il giusto software che faccia le giuste cose, come anche il programma di montaggio. In questo caso vi ho detto che abbiamo spostato parte delle nostre attività su DaVinci Resolve, ma tante altre cose le facciamo su Premiere Pro. Dipende dal tipo di progetto, dal tipo di collaborazione dei collaboratori che ci lavorano e da quello che dobbiamo fare con quel tipo di progetto. Per esempio ci sono progetti complessi di serialità un pochino più lunghe per la TV dove abbiamo trovato una quadra nell'utilizzare esclusivamente DaVinci, perché ci facciamo gli ingest, i proxy, montiamo, facciamo la color, facciamo il mix dentro DaVinci, dove ci sono effetti ovviamente facciamo anche gli effetti e possiamo, abbiamo tutto il modulo color e per l'esportazione molto molto professionale. E rimaniamo sempre lì dentro, quindi se c'è un rework non dobbiamo fare tanti passaggi, perché ovviamente quando abbiamo fatto progetti su Premiere Pro la color comunque la facciamo in DaVinci, quindi c'era un battibecco tra i due software e darà tutto più lungo. Quindi progetti più piccolini e rapidi li facciamo con Premiere, progetti più grossi e lunghi li facciamo con DaVinci. Non per questo Premiere non sia all'altezza, anzi io adesso ultimamente abbiamo lavorato ad alcune serie importantissime che sono state montate con Premiere Pro e sono contento che non sia soltanto più Avid l'unico software di montaggio, ma ormai Premiere e DaVinci hanno preso il loro piccolo posto all'interno della cerchia e comunque abbiano il loro da dire. Perché? Perché ragazzi per quanto possano esistere degli standard di settore, per esempio per il montaggio c'è Avid, per il mix c'è la controparte di Avid che non ricordo come si chiama, no Pro Tools di Apple, c'è l'altro, non ricordo il nome. Per il compositing c'è Nuke che è lo standard di settore, ma sono standard perché sono utilizzati dalla maggior parte e ovviamente hanno il motivo per essere standard, perché hanno una grande potenzialità di programmazione e quant'altro. Per il 3D esiste Maya, ma in realtà per il 3D esiste anche 3D Studio Max, esiste Cinema 4D, quindi esiste Blender che è un potentissimo open source, quindi ci sono le alternative, come per il montaggio. L'importante molto spesso è non pensare troppo alla tecnica, ma pensare anche al contenuto e soprattutto alla parte artistica e quindi il mezzo sostanzialmente arriva dopo. Nel nostro caso ne abbiamo fatto una scelta tecnica di passare per gli effetti visivi da After a Nuke per un discorso prettamente tecnico e matematico, proprio una matematica applicata ai pixel. Fusion è molto più performante di After Effects sotto questo punto di vista, ma è meno performante sotto il punto di vista artistico. Per questo quando c'è da fare qualcosa di più artistico, lo facciamo ancora in After Effect. Insomma questa era soltanto una chiacchiera per raccontarvi un piccolo cambiamento epocale che è avvenuto nella mia vita lavorativa, perché questo è stato un piccolo grande terremoto, lavorare costantemente con dei software. Ci sono stati dei progetti che il nostro team faceva contemporaneamente in After e in Fusion, perché doveva imparare, però dovevamo consegnare contemporaneamente, quindi se non ce la facevamo a farlo in Fusion lo facevamo anche in After e così lo potevamo consegnare. Passato circa un anno posso dirvi che è stato molto piacevole e divertente riuscire a imparare un altro software e soprattutto un'altra mentalità, perché lavorare a nodi è tutta un'altra mentalità. Insomma io sono Luca Oletta, vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto nel video, se avete delle domande ovviamente potete pormele qui sotto, mi trovate anche su Instagram e se avete delle idee o dei consigli per dei video che vorreste vedere o vorreste capire delle cose specifiche, mi raccomando scrivetemelo qui sotto e venite a trovarmi, ovviamente trovate tutti i miei link. Cos'altro dirvi? Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.